Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Stan, vi do il venuto qui al canale, siamo qui su Space Engineer, come potete ben vedere in compagnia del nostro amico Simulator for Life, l'astronauta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Stan, siamo tornati qui, sulla Erlingrata praticamente. Sulla Erlingrata alpina di un altro mondo però, eh. Esatto. In un altro spazio tempo per utilizzare termini astronomici così. Bravo, esatto, esatto, esatto. Allora, ci troviamo di nuovo qui in questo nuovo gameplay per andare avanti e provare a recuperare materiali. Allora, se vuoi venire qui un attimo, dentro l'assemblatore di base dovrebbe esserci una sorpresina per te. C'è una trivella potenziata se vuoi. Trivella? Dovrebbe essere questa qua? Sì, ha una freccina in su. No, l'altra. No, era l'altra. Ah, eccola sì. Quella con la freccina. Perfetto. Eccola qua. Ma ti lascio la mia vecchia? Sì, lascia qua dentro la vecchia, va là, che se no ti appesantisci. Oh là là. Oh là là. Perfetto. Che bello. Allora, dobbiamo continuare le lavorazioni e portare a termine la raffineria qua per andare avanti perché se no non ci muoviamo di qui. Purtroppo mi serve la griglia metallica. Per fare la griglia metallica mi serve il cobalto. Allora, come ho detto prima al simulator, sono andato un po' in giro qua off camera e ho trovato per fortuna il cobalto. E devo dirti grazie proprio alla trivella potenziata. Ah sì? Eh sì, presumo sia uno step da fare perché riesce a rilevare 80 metri. Mentre la trivella normale è 50. Ah ok, allora si vede che serviva per forza quell'arri. Esatto. Ok, ok, buona sapersi. Perfetto. Allora, prima però di partire come sempre vi ricordo e vi invito se non avete ancora fatto andate giù, iscrivetevi al canale, attivate campione notifiche, commentate, condividete, pollicioni in su a nastro come piovesse, mi raccomando, the million like. E in più in descrizione trovate il link di simulator, andate ad iscrivervi anche al suo canale, mi raccomando. Grazie, grazie mille. Allora, come ho detto prima, io ho trovato il cobalto e mi sono segnato le posizioni. Perfetto. Però c'era un'altra cosa che volevo fare io, prima però. E vediamo un attimo se posso farlo, perché volevo fare... Esatto, ma vieni... Com'è possibile che io possa fare... Questo? Vabbè, non mi ricordavo che potevo già fare le bombole di idrogeno. Allora, sono... Sei già tutto esperto, allora. Perfetto, sono tre a testa. Riesci a prenderteli? Sì, penso di sì. Un, due, tre, ok. Un, due, tre, bombole di idrogeno. Ma ce n'è una in più, però, mi sa. Vabbè, non importa. Perché io ne avevo già una, allora, boh. Ah, ok, perfetto. E allora, costa scusa, oggi andiamo a recuperare materiali in due, visto che anche tu hai la possibilità di volare di più. Perfetto. Dobbiamo comunque però andarci a ricaricare nella piccola infermeria. No, 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 qua, qua. Dobbiamo ricaricare le bombole qua dal generatore. Ah, ok, qua, ok, 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 ok. Sì, qua, sulla luce. Buttale dentro e vedi che si ricaricano. Vedai, mi devo caricare di idrogeno. Oh, là, là, io. Perfetto. Quando ci sei... È sempre bello imparare. Sì, ho una domanda, però. Dicca, dicca. Ho preso la trivella potenziata, ma non mi appare più sul tasto 3. Scusa, è giusto. Premi il tasto G. G? E strumenti personaggio. A sinistra. Aspetta che... Sulla lista. Strumenti personaggio. E ci trovi la trivella, la porti sul tasto 3. La trivella, perfetto. Oh, là, là, perfetto. Perfetto. Perfetto, adesso, vedi col tasto G, ci sono tutti i blocchi. Tu, qualsiasi cosa che vedi, che è sbloccato, per il momento, la puoi portare nei tuoi tastini rapidi. Ok, ok, ok. Così da avere la possibilità. Allora, andiamo a prenderci il cobalto, visto che siamo in due. Sì. Dimmi dove dobbiamo andare. Lo vedi il segnale? Eh, no, non vedo niente. Non vedi il segnale? Vedo solo il segnale dell'astronave qua, piccolina nostra. E non vedi un segnale da queste parti? No, no, no. Non vedo nulla. Come mai? Se vuoi seguirmi... Sì, ti seguo. Ehi, là, dove vai? Ci sei? Ah, ok, ok, non ti vedevo più. Sì, sì, ti vedo, ti vedo. Però io non... Io non sono avvinto a tavolare. Comunque io non vedo il tuo segnale. Quello è il punto. Ah, tu non vedi il mio segnale. Io però vedo il tuo, stanno 84. Ah, vabbè. Ottimo. Ok, siamo arrivati nella zona. Perfetto. Ah, ok, siamo arrivati. Perfetto. Se io attivo... Ok, perfetto. Eccolo qua. Allora, ci sei, capo? Sì, eccomi. Allora, io mi occupo del cobalto. Se vedi, c'è un po' di ferro a 60 metri. Aspetta, perché vedo un po' di roba? C'è ferro, poi vedo del nickel anche... Nickel, esatto, e del cobalto. Ok, buono, vado a occuparmi del ferro. Ascolta, un'altra cosa non ti ho detto. Col tasto destro... Scusa, non credo di aver capito. Google Home. Dimmi. Allora, col tasto destro della trivella, crei il buco senza raccogliere. Senza raccogliere. Esatto, col tasto sinistro, raccogli. Allora, possiamo cominciare a sfondare il terreno. Oh, yes. In modo così facciamo sta raffineria. Giocatore disconnesso. Oh, ecco il cobalto, finalmente. Adesso facciamo scorpacciate di cobalto. Oh, ecco il ferro. Questo dovrebbe essere... Eh sì, eccolo qua. Deve essere rosso. L'ho trovato. Sì, sì, è rosso. Naturalmente dovresti anche far prima a raccogliere con quel trapano lì. Sì, un attimo si spacca tutto. Eh. Allora, l'unica cosa è che in teoria dovresti raccogliere anche pietra. Ok, bene. E c'è un modo per lasciarla. In che senso c'è un modo per lasciarla? Nel senso per... Per scaricarla. Ah, e sarebbe? Ma sono già pieno di cobalto. No, di pietra. Allora, tu premi K. Allora, K. Aspetta. K. Ok, vedi che hai il tuo inventario. C'è il ferro. Sì, ferro. E hai un po' di pietra. Sì, pochissima. Vabbè, tu clicca sulla pietra. Ok. E c'è una... Al centro ci sono varie freccettine. Sì. Lascia oggetto. La prima, lascia oggetto e ti scarichi. Ok, perfetto. Attento perché se ne hai tanta... Vabbè. Torno anch'io alla base visto che... Comunque sono pieno e un po' di pietra... Dov'è la base? Ok, base. Allora... E poi mi devi riaccompagnare là. Dove lo devo posare il ferro? Il ferro... Niente. Per il momento mettilo qua sul basic... O se no, lascialo qua sul container. Perché c'è un piccolo problema. Nel senso che l'unico problema che abbiamo in questo momento... È che non c'è energia. Ah, ok. Per cui dobbiamo innanzitutto togliere questa... Turbina eolica. Tanto mi ricarico io, eh. Sì. E io credo che sta altezza qua possa andare. Ci trasliamo di un paio di... I metri. Aspetta, devo capire però cosa ci vuole. Allora... Trave 24... Tanto basta che ti prendi un po' di lastre per fare. Qualsiasi cosa bastano delle lastre. Ok. Per il momento, per posizionare l'apparecchiatura, diciamo. Ok, lastre. A computer trave. Abbiamo un problemone perché la trave... Finché non faccio una turbina, non ho più energia. Quindi come si fa? Niente, adesso ne faccio una. E torniamo in funzione. Motori. Vediamo se adesso... Ah, adesso sì che me la fa... Così. Ok, ti prendi un po' di roba e vai avanti a costruire tanto. Cos'è? Adesso mancheranno un po' i materiali. Comunque, in teoria dovrebbe arrivare anche energia per la fornace, si spera. Ok, 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 tranquillo. Vediamo se questa è partita. Eccellente. La fornace ad arco è partita. Proprio mancava nei materiali. Bene, meno male. Allora, aspetta che mi prendo un po' di cobalto e faccio subito... Travi, travi ne abbiamo, sì. Oggetti mancanti, ferro. Sai quante travi servite? Ah, un altro di dieci e siamo a posto. Ecco qua. Eccolo qua. La raffineria è pronta. Perfetto. Allora, togliamo tutto da qua, che tanto non serve più la fornace ad arco. Adesso che abbiamo la raffineria... Non è stato possibile depositare un componente. Sì, beh, questo lo so anch'io. Allora. Oh là là, ok. Bene, finché Simulator finisce di crearmi le turbine eoliche, e io vorrei fare l'assemblatore, perché sennò... Assemblatore... Sennò siamo messi un po' così, un po' male, eh. Vediamo se riusciamo almeno a completare, a fare anche l'infermeria, così siamo a posto. Eh, non sarebbe male, infatti. Perfetto. Oh, qua. Ci siamo. L'assemblatore è online. Benissimo. Per cui questo possiamo fermarlo, se vuoi. Ok. Allora, cancelliamo tutta la produzione e spostiamo tutto qua. Allora, io direi di cominciare a produrre un po' di cosette. Come sta andando? Bene, bene, adesso ci sto iniziando a capire. Ok. Ci sto iniziando a capire. Allora, finché tu fai lì, io vorrei mettere giù l'infermeria anche. Eccola qua. Il punto è che l'infermeria per il momento ci servirà solo pannello da interni, mi serve. Eh, non l'ho finito quasi, eh. Eccolo qua. Lì mettiamo l'infermeria intanto. Pannelli da interni li hai finiti. Ok. Adesso arrivano. No, il cobalto è stato la via di sblocco per andare avanti. Sì, veramente, era proprio quello che ci voleva allora. Esatto. Tipo, in questo momento per fare l'infermeria mi servono i componenti medici e mi serve argento. Ah, ecco. Allora, andiamo a recuperarne un pochino. Sì, arrivo. Dammi un secondo che finisco di costruire l'ultimo pezzo della turbina. Ok, ti ho costruito tutte le turbine. Prima costruzione che faccio su questo gioco sono parecchio soddisfatto, eh. Adesso vengo a far vedere la tua opera. Eccola qua. Mi carico anch'io. Perfetto, guardate che potenza energetica che abbiamo adesso. In teoria dovremmo riuscire a far andare tutto. Ok. Poso solamente i componenti che ho preso per la costruzione così meno migli. I componenti, sì, posali qua. I libri. Nel cargo container. Ok. E cominciamo già a dividere un po' di robetta perché qua si riempie con facilità. Ok. Ok, pronto. Ci siamo. A partire. E il coca, l'argento lo troveremo a 5 km. Io ti seguo perché tanto la strada non la so. Quasi quasi quando arriviamo mi segno la posizione. Urca, stai correndo talmente tanto che non ti vedo più. Eccoti qua, eccoti qua, eccoti qua, eccoti qui. Ma ci sarà un modo comunque per... Mi hai trovato? Ok, eccoti qua. A 150 metri. Ok, sono dietro di te. Ok, ma... Io vorrei scoprire questo problema qua perché io non vedo il tuo segnale. Ecco qua. Eccolo. Ok. Buongiorno. Perfetto, buongiorno. A posto. Bene, io direi di iniziare. Sì, da dove partiamo? Da dove vuoi. Da dove vedi il segnale è più vicino di argento. Ok, mi recupero un po' di argento e anche Simulator si sta recuperando l'argento così... Possiamo finire di costruire. Un attimo, però se vuoi andare, tant'io la strada oramai... Ah, ok, vabbè. La so, eh, quindi... Allora vado... Vado a scaricare. Vai pure a scaricarti con tranquillità. Io tanto adesso sono abbastanza autosufficiente. Ok, eccoci qua di nuovo alla base. E... Beh, posso metterlo da qua anche. Ok, mettiamo dentro l'argento. Perfetto. Inizia a farmi argento e iniziamo a produrre questi. Eppure argento ce n'è in abbondanza. Adesso te ne sto portando anche io un bel po', eh. Ma mi sa che manca ferro. Ferro? Sì. Oh, eccolo qua. Bene. Posso fare qualsiasi cosa io finché l'assemblatore è pieno. Sì, veramente. Eh, purtroppo. Allora, eccola qua. La nostra medicina. La nostra, sì, medicina. La nostra infermeria, volevo dire. Credo che... Non è al 100% l'infermeria perché non arriva idrogeno, perché dobbiamo costruire, dobbiamo costruirci il generatore di ossigeno, di idrogeno, altre cosette che ci serviranno. Dove te lo metto l'argento? Nel container? No, nella raffineria. Vai su là se vuoi. Ok. Qua sopra, che allora... Dove, 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 dove? O qua dietro, insomma. O qua sopra. Aspetta, eh. O dietro. Qua c'è un ingresso. Ah, ok, ok. Oppure anche qua, o anche qua. Vabbè, vado qua sopra che mi viene abbastanza comodo, dai. Ah, qua possiamo far così. No, mi saranno le lastre. A questo punto però ho recuperato altri... Un'altra smeriglia e un altro... Come si chiama? Un altro saldatore. Eh sì. Puoi anche lasciarli da qualche parte. Li lascio nel survival, magari. Sì, sì, intanto non... Intanto non servono per il momento, sì. Io qua allargo un po' la base, perché ormai ci stiamo allargando. Ok, qua sotto possiamo mettere una piccola fondamenta. Tanto per non far... Sembrare la cosa volante. Va bene. Ok. Credo che per il momento possa andare. L'infermeria, se vuoi, è qui. Per il momento non arriva idrogeno, perché non l'abbiamo collegata a nessun generatore di ossigeno. Poi provvederemo nel gameplay prossimo, insomma. Perfetto, perfetto. Ok, allora noi due ci fermiamo qui per il momento. Vi ringraziamo di essere stati qui in nostra compagnia. Come sempre io ti ringrazio, Simuleto, per questa nuova avventura. Figurati, figurati. Un po' complicatina, ma... Cercheremo strada facendo di risolvere anche questi problemi. Esatto, esatto. Che non sarebbe male. Eh, sì. Allora, io come sempre vi ricordo e vi invito, se non avete ancora fatto, date giù, iscrivetevi al canale. Lei cerca come sempre un bel pollicione in su, commentate, condividete. Inoltre tutto giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e per supportarmi e vi ringrazio. Io ti ringrazio, Simulator. Figurati, grazie a te per l'invito. E non ho detto che inoltre tutto giù in descrizione, come sempre, trovate il canale di Simulator. Andate ad iscrivervi anche lì, mi raccomando. Grazie, grazie mille. Figurati. Bene. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie. Ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao a te. Ciao.